Sottoscritto a Teramo la presenza del sottosegretario di Stato all'interno, Nicola Molteni, il prefetto Angelo De Prisco, l'assessore regionale Pietro Quarisimale, i sindaci dei sette comuni della costa teramana, Martinsicuro, Albadriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, il patto per la costa sicura, per l'attuazione di politiche di sicurezza integrate partecipata nei comuni costieri della provincia. L'obiettivo è quello di rafforzare il lavoro quotidiano e la collaborazione tra forze di polizia e le amministrazioni locali nell'azione di tutela della sicurezza dei cittadini. Allora, l'impegno delle forze dell'ordine e soprattutto anche dei sindaci, perché dobbiamo partire da questo presupposto, non c'è sicurezza se non c'è controllo del territorio, soprattutto da parte di chi è rappresentante dei territori e il patto che sottoscriviamo oggi tende soprattutto a responsabilizzare le parti di questo sistema di sicurezza che a noi piace definire partecipata o integrata, in cui tutti i soggetti, non soltanto chi indossa la divisa, ma anche i rappresentanti della cittadinanza si preoccupano della sicurezza delle loro città. Sono onorato di essere qua oggi a firmare questo patto territoriale per la sicurezza urbana, che è la dimostrazione della sinergia, della collaborazione leale, corretta, costruttiva e seria tra Stato e enti territoriali. Un lavoro importante fatto in questi 15 mesi per consentire al Paese di uscire dalla pandemia, fatto anche grazie soprattutto al lavoro, ripeto, straordinario della Prefettura, delle forze di polizia e degli amministratori locali che hanno dato un grandissimo contributo al Paese. Questo patto cementifica il rapporto sul fronte della sicurezza urbana e il contrasto alle illegalità per avere una vivibilità migliore rispetto al quale il timbro del Ministero dell'Interno è il simbolo di una collaborazione, di una leale e sincera collaborazione sul fronte della sicurezza. Il sottosegretario durante l'incontro ha anche annunciato l'arrivo di nuove forze dell'ordine sul territorio costiero. Lo chiede il territorio, lo chiedono i sindaci, lo chiedono gli amministratori, lo chiedono le forze di polizia, lo chiede il prefetto. Questi rinforzi estivi, questi 15 uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza sono un segnale di attenzione soprattutto nelle zone di maggior afflusso turistico perché dove c'è maggior afflusso turistico evidentemente c'è bisogno di maggiore attenzione, maggior controllo del territorio, maggiore prevenzione e quindi il Ministero dell'Interno dà una mano e un contributo al territorio e alle comunità locali per poter governare meglio i processi di sicurezza sul territorio. Quindi una risposta importante per il bene dei territori e per il bene dei cittadini.